Il museo storico etnografico nato dalla volontà di Maria Adriana Prolo, Fernanda Renolfi e Carlo Dionisotti ha sede in una ottocentesca villa caccia ed è una risorsa di grande valore che racconta nelle sue sale l'affascinante storia dell'evoluzione degli usi e costumi valligiani dalla metà dell'ottocento ad oggi. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!